L'ammiraglio Luigi Binelli Mantelli è a pochi giorni dall'avvicendamento, sta per lasciare la sua carica di capo di Stato Maggiore della Difesa e contemporaneamente per andare in pensione. Si apre una finestra privata nella sua vita, ammiraglio. So che è una delle sue grandi passioni del cinema. Io adoro il cinema perché è un momento veramente di rilassamento. Prima di tutto si spengono i telefonini, ci si concentra sulla storia, cosa che non si fa normalmente sulla televisione perché si è distratti da mille cose. Poi la televisione la trovo un po' apprensiva perché uno si aspetta da un momento all'altro interrompono le trasmissioni per comunicarci una tragedia. Ha una passione per un genere particolare e in particolare segue il film bellico o comunque in qualche modo collegato alla guerra? Ci sono dei film che io ritengo delle pietre migliari, soprattutto di etica militare. Uno è We Were Soldiers, Gibson, un altro è Salvate il soldato Ryan. Poi come marinaio Master e Commander è un film che veramente ti dà, senti proprio l'odore delle navi a vela e la vita dura che si faceva non amo i film di guerra spettacolari perché la guerra non è mai spettacolare, è sempre qualcosa di molto delicato e difficile da comprendere. Agli ultimi Oscar ero in gara anche America Sniper di Eastwood, lei l'ha visto e mi ha trovato un suo giudizio? Allora parliamo di Oscar, io ho visto Birdman e La teoria del tutto e ho detto subito, appena di tutto e ho detto questi sono film che vinceranno qualche cosa perché li ho trovati molti innovativi, in particolare Birdman ha un tipo di cinematografia continua, incalzante, gli attori stupendi, bravissimi eccetera. Lo stesso La teoria del tutto mi ha invogliato a leggere La breve storia del tempo di Hawkins che è interessantissimo. E di America Sniper? Su America Sniper io dico che io amo moltissimo Clint Eastwood come regista, mi è piaciuto molto Million Dollar Baby, mi è piaciuto molto Gran Torino, Ponti di Madison County, America Sniper è un film molto diretto, molto secco, ovviamente Clint Eastwood è molto americano. Consigli tre film o un film se preferisce per un giovane ufficiale che si debba formare in questi anni e che debba affrontare i problemi militari e politici e geopolitici di questi anni? Prima di tutto gli consiglierei un cartone animato di Miyazaki che si chiama Porco Rosso, è un film dedicato soprattutto ai piloti caduti in un periodo mondiale, è un film molto, un cartone ma di una delicatezza e di una profondità grandissimi. Poi film di guerra forse We Will Sordier o Soldato Ryan come ho detto e poi un film vecchio che era L'ammutinamento del Kane che è un film che insegna cosa vuol dire essere comandanti e cosa vuol dire essere ufficiali di una nave a supporto del comandante. Insegna quanto è facile sbagliare e quanto è terribile quando c'è un ruolo di responsabilità. Insegna anche che gli ufficiali devono essere leali e solidari con il proprio comandante e non portarlo a certi eccessi che poi lo fanno impazzire perché quella è stata la realtà. Il Stato Poggio di Difesa produce anche delle immagini e secondo lei dovrebbe in qualche modo produrne di più, cioè la via del cinema, dell'immagine dovrebbe essere più praticata dalle forze armate italiane, questa è una via importante per comunicare il ruolo della difesa rispetto ai giovani oppure è già sufficiente? Sì, sono d'accordo con lei. Credo che più, che si debba costruire un'immagine delle forze armate del militare italiano che non è facile da costruire perché da noi sussistono molti stereotipi negativi, ma sono stereotipi. Se noi assistiamo per esempio a filmografia anglosassone ha saputo costruire fin dall'inizio la figura del soldato, dei militari, nel bene e nel male. La stessa filmografia tedesca ha avuto un'evoluzione e oggi noi riusciamo a distinguere il nazista dal soldato tedesco e questo è nella storia, sto parlando del passato ovviamente. E questa è una costruzione culturale di immagini che è molto importante, da noi non vedo questo sforzo anche perché manca una cultura in questo senso. Le chiedo un'ultima cosa, ma che film lascerebbe sulla scrivania per il suo successore che fra l'altro è un alpino? Ma gli lascerei tora 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 perché pensi un po' anche alla marina oltre all'esercito.